Il Mediterraneo è sempre più centrale, come dicevamo, tant'è che i cinesi hanno deciso di investire, quindi di comprare i porti del Pireo. Quindi questo dà un'esatta visione di cosa vuol dire. E purtroppo i porti italiani che comunque vedono crescere gli scampi, gli scampi commerciali e il numero di container trattati, quindi soprattutto quelli medidionali non sono ancora in una condizione di essere all'appille del mondo. E qui una compulsione va fatta alle istituzioni politiche che tutto sommato devono trovare con l'aiuto degli imprenditori, e quindi della parte che opera tutti i giorni e che vorrebbe operare sempre meglio, devono trovare la quadra di un fattore economico importantissimo che non deve vederci tralasciati dalla concorrenza mediterranea.